Tanti auguri a te, tanti auguri a te Non si fida Ok la prende Filipe picco E' buona come una granita è proprio il tuo compleanno il tuo compleanno oggi abbiamo festeggiato ieri però oggi è proprio il giorno che sei nato sono ancora un po' nella pancia ancora quest'ora allora salutiamo i tuoi amici del canale oggi noi abbiamo i miei regali questi sono tutti i tuoi regali? che t'hanno fatto? che belli quanti? adesso li facciamo vedere iniziamo da questo cos'è il libro delle puzze? e chi ti l'ha regalato? la zia? sì no il nonno il nonno? fa vedere un po' nudo avrai già notato che il tuo corpo produce molte schifezze ma anche quelle più rivoltanti hanno uno scopo leggi qui per scoprire di più pipì poi qua cosa c'è? scorreggia scorreggia vomito vomito cacca popò popò ho la cacca sul mano no lì cos'è? una crosta crosta che è gigantesca la crosta più grande della cacca gira la pagina guarda c'è rume c'è rume c'è rume sudore dove è il sudore? che schifo bava dai che mi viene una nausa dai questo cos'è? allora questa qua è la barba che forma di freccia perché va tirato ma questo qua che cos'è? un verme che gli esce dalla bocca guarda parla il colore della lingua dice quando è bianca cos'è? stai mangiando il latte e i suoi derivati chiaro sei sano come un pesce verde può indicare che stai lottando contro un'infezione dai vediamo gli altri regali non posso più guardare qua c'è un lego dai drago si fa aiuto a aprire fa vedere cosa c'è questo regalone chi te l'ha fatto? ogni sarà tua mamma e tuo papà che poi starei io e la mamma la mamma ci sono questi due regali i memory del simson lo ci sono radiotrasmittenti si me li ha regolati mia sorella si vediamo funzionano to drago si può parlare? dai parlo prima io la cucaraccia che bella novità E gli altri regali Aspetta, ascolta Si è incastrato un regalo Questo cos'è? Senti questi regali qua non è neanche la metà Abbiamo tanti altri sotto i nostri piedi Questo si muove, è l'Ego Technics questo Nikita No No Dai Poi Di cosa c'è Che cosa c'è dentro? C'era qualcosa Interessante Star Wars Si Mi sembra che sia un po' scolorito E poi cosa c'è ancora? Il casino Wow Voglio un 5 miliardi di euro Il casino Che gioco qua comincia E dopo 6 Aprendo il vizio del gioco stiamo freschi E quello? Per andare dove? Sciare? Si No No Su Basta Fai bene Lei Non lo so Per guidarla aereo Vediamo Che si te l'ha regalato Come scappa Come scappa Il binocolo dei militari Dovevo stare nel regalo del nonno di sicuro Della nonna Della zia nonna Che bello che ha quello che fa vedere Allora ti piace Ciao 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 Adesso vado a aprire i regali Ciao 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 Bye 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 Cute bye my friend Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Attenta non finisci Entriamo i capelli Ehi papà non Grazie Dai Happy birthday to you